sotto la strada ci sta questa mammina ciao amore con i suoi cucciolotti di un mese vieni bella amore vieni vieni non abbiate paura piccoli che bella questa mamma quanti violetti quanti sono venite che vi dobbiamo sverminare piccolini vieni mammina vieni fuori vieni sotto la strada in una cunetta questa mammina vieni fuori amore vieni che dobbiamo sverminare i tuoi piccolini e poi li sistemiamo tutti troviamo una bella famiglia tutti non vuole uscire vieni bella non avere paura di me su poverini in che condizioni se qui piove e si allaga affogheranno mammina non potevi scegliere un posto migliore per partorirli guardate questo piccolo vuoi mangiare la vespa tu dai amore è pieno di vespe e mosche ecco lì stanno venendo in avanti guardate che meraviglie che meraviglie questi piccolini quanti sono? sei sei sono ho sette no due sette ne ha sette sette piccolini adorabili tutti belli amori tu sei il più coraggioso che cosa sei? vediamo vediamo che cosa sei tu coraggiosetto cosa sei? un maschietto li dobbiamo prendere tutti uno a uno per sverminarli hanno l'età di essere sverminati? e vediamo ma come fai a prenderli Giuse è quello il problema no ma sono venuti in avanti se mettiamo della carne in scatola qualcosa io penso che escono fuori eccoli sta uscendo un altro gli prendiamo una cassetta e li mettiamo dentro sì no Giuse non ancora al momento ma ci sono i dentili però posso non scendere dentro ah ok e quanto hanno? 20 giorni? 25 giorni 20-25 giorni allora torna con la mamma tu sono piccolini sì sì torniamo con la mamma tutto nero tutto nero poi torniamo a sverminarvi poi torniamo dovete stare bene nel frattempo vai con la mamma non ti allontanare con la mamma devi stare con la mamma guardate questo e questo oscuro ciao piccolini ci vediamo presto grazie a tutti 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 grazie a tutti